Nante l'aggravante che in alcuni casi la droga veniva spacciata all'interno degli istituti scolastici di Avellino? Sì, l'aggravante la definisce il GIP del Tribunale di Avellino, la definisce allarmante. Florido, attività di spaccio allarmante, una misura in cui lo spaccio veniva effettuato sia all'interno in particolare e molto più spesso e in alcuni casi è stata riscontrata anche tramite intercettazione telefonica a venire anche all'interno di alcuni istituti scolastici. Quindi anche studenti e minori coinvolti in questo giro? Diciamo che i responsabili sono quattro che sono stati tratti in arresto e come misura gli arresti di obiciniari, due 19 anni, un 20enne e un 28enne. In un caso è stata rilevata peraltro l'ulteriore aggravante previsto da un altro coma dell'articolo 80 del DPR, testo unico di sostanze stupefacenti perché veniva utilizzato anche un minore solo per le consegne sostanzialmente. C'erano dei punti di riferimento sulla città che sono Via Mancini e l'ex Cine Mariseo e quindi in questo caso i consumatori già sapevano dove andare per acquistare sostanze stupefacenti. A volte peraltro arrivavano anche da fuori dalla città di Avellino per acquistare e poi ripartire e ritornare nei luoghi di domicilio. Ha parlato di mercato fiorente. Mercato fiorente purtroppo la domanda è sempre alta. Noi facciamo di tutto anche con gli incontri con gli studenti per cercare di andare a evidenziare quali sono i punti critici che riguardano la salute ma più che altro anche per ribadire che comprare droga è sempre ovviamente portare soldi alla criminalità organizzata perché sappiamo poi tutti che la droga e il traffico internazionale arriva in Italia tramite ovviamente le organizzazioni criminali quindi si va a finanziare l'organizzazione criminale. Grazie